Ecco la panoramica del manto erboso pieno di ragazzini con i rispettivi mister, qua abbiamo mister Gabriele Di Felice, coordinatore anche dello staff tecnico, c'è il gruppo dei più piccolini, questi sono 2010, già hanno dimestichesse con il pallone. Sulla palla, e si respira bravi, respiriamo a me gli occhi, in fondo c'è il preparatore dei portieri, a me gli occhi, Aurelio, qua c'è il gruppo di Giulio Massimini, qua c'è il gruppo di Antonello Ucci, Billy con il video, là c'è il gruppetto di allievi che si stanno riscaldando, qua c'è il gruppo di Giuseppe, Gian Cristoforo, mister Giuseppe, c'è qualcuno anche dei giovanissimi che da domani passerà sotto le cure di mister Giovanni Di Giulio, come pellegrina Simone, il più alto di quella fila, è rientrato adesso, oggi è il primo giorno anche per lui, mister Simone Giordano, palloni nuovi, acquistati, ecco, ragazzi, adesso eseguono gli esercizi dettati da mister, sempre lo stand delle informazioni, c'è la fila, sempre cremito, meglio così si vede che hanno risposto bene i genitori, ecco, qua lo stand di pane e olio, al posto delle classiche patatine, pane e olio, c'è l'amico Adriano, pane e olio, olio extravergine d'oliva, Roberto sta facendo i caffè, grazie, sono per essere un genitore di un ragazzo, tutti presenti.